Salve ragazzi sono Castoro e io sono ProGiochi e tornati su Horizon Zero Dawn Ragazzi finalmente siamo usciti dall'abbraccio e stiamo andando a cercare Olin che ha tradito in ora fammi vedere la mappa e la madonna sa che faccio mi cavalca un bel costo di quello fammi vedere se è il possibile esatto prendi magari un cavalluccio o qualche altro bestia un cavalluccio marino no perché io lo voglio marino e io lo voglio volante volante non esiste perché ne sai quanto è lenta a nuotare ok tizio cosa vuoi il mio focus rileva un'altra scaccia di segnale forse posso esaminarlo cosa non ne ho idea segnale sconosciuto dopo ci andiamo ma da dove proviene nuovo collo lungo che cazzo è un collo lungo quelle rovine deve essere sete del denore una città dei predecessori del mondo di metallo figo oh è scomparso l'ho analizzato metodo della missione questo ah ecco cos'è sto coso proviamo esamina il segnale vai oh che cazzo è quel coso bello queste sono amare ma utili è un coso come si chiama quei dinosauri lunghi i brontosauri non lo so non li ricordo lungo probabilmente il segnale arriva dalla testa devo salire lassù arrivo ma questo mi schiaccia è tipo un giraffa però dieci volte più greco eh la fai facile arrampicarsi sulle zampe devo trovare un altro modo ok ah da qua sopra secondo me tipo da sopra queste piante eh ah te lo segniamo sulla mano chissà eh perchè perchè sei coglione ecco perchè chissà tipo quanti ce ne sono se sono limitati se sono la riga funziona come la torre di zello quando ci scommetti eh ah 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 sei dentro smatto tu sei incivante no ah ok ah 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 come non lo puoi prendere esamica fuga di notizie crea il panico cacquini leggi eh ah 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 a ah ah hanno attirato l'attenzione i giovani professionisti scientifici nella metà degli anni 2050 la foglia dei dati suggerisce che il crescente ricorso dell'automazione da parte della società possa aver reso la forza di lavoro umana obsoleta la corrispondenza è tratta ripetutamente dai potenziali costi per il trasferimento del personale in esubero suggerendo che, qualora si verificasse un licenziamento di massa gli ex impiegati della Shaolu perderebbero la cittadinanza cinese garantita dal loro impiego non ci ho capito un cazzo documenti segreti sono questi praticamente sono i collezionabili eh si vabbè ti dice che praticamente piano piano le macchine hanno sostituito gli umani si ma ora devi rifare tutto il nuovo trova un'altra strada più veloce di fare eh qua, vedi? questo dovrebbe essere un buon punto per saltare sull'automazione ok, adesso devo arrampicarmi sulla testa vai scala sono un ninja vai eh, Shadow the Colossus ma veramente stai tranquillo non mi ci vorrà molto mmm è figata Varl ha detto che il tipo guerra suona è sulle frazze degli assassini della guerra vedi? eh si, ti dà la macchina è figata è figata carica perchè è tutto miro ah ecco non caricava la mappa ok di Google ah ecco vabbè eh si, ti ha fatto vedere eh secondo me c'è uno ah fino a qua ce n'è uno per ogni aria quindi saranno altri tre o quattro oh, prima di andare su quello ok come mi calo? che cazzo succede? che cazzo succede? è esploso? what? no ok uh, sto diventando oscuro che casino che fai qualcosa eh? che casino? eh, è gigante ci manca porre che è silenzioso i colori stanno cambiando il sole tramonta eh, me ne so accorto che i colori stanno cambiando c'è tipo una nebbia strada verde ma stiamo venendo a palude forse eh si oh, che cos'è? si sono allertati perfetto sono lupi? ok oh, si che cazzo? no esamicalo esamicalo ragazzi esamicalo voglio sapere cos'è no ah, esamicalo esamicalo non posso esaminare anche a te no no ok il prossimo spazzino eh già l'abbiamo affrontato sicuro non me lo ricordo vabbè vabbè si va che nel buio non si capisce cos'è qua? tipo un villaggio? un insediamento eh sì dobbiamo andare a passare qui ci sono sacche di missione che si è stato troppo sembra più un accampamento militare quanti feriti gli audaci l'hanno nominata cercatrice silenzio troppo casino salviamo salviamo bene ragazzi anche per oggi è tutto e ci vediamo al prossimo episodio ciao ciao ciao